I primi due diplomati alla Cap Academy sono Martina Ruggeri e Daniele Bonopane. Dopo un percorso di formazione di sei mesi hanno conseguito tutti i requisiti necessari per entrare nel mondo del lavoro, con un contratto a tempo determinato di un anno. Sei mesi intensi, belli, visto l'azienda da 360 gradi, cosa che non è da tutti, entrare anche in certi uffici, conoscere bene tutto l'ambiente. Niente, sei mesi intensi, belli, non vedevamo l'ora di entrare, perché ci hanno anche rallentato tantissimo questo fatto del Covid, le patenti, quindi non vedevamo proprio l'ora di entrare. A gennaio stavo già pensando di conseguire le patenti professionali, sempre nello stesso periodo ho visto l'offerta del Cap Academy e ho detto non me la lascio perdere, assolutamente. Di conseguenza oggi sono qui e la passione appunto per la guida, come ho già detto, è ciò che mi spinge ad impegnarmi sempre di più e in più essere in un'azienda solida come la Cap, che è il fulcro della città di Prato, per me è soltanto fonte d'onore. Oltre ai due neoassunti, altri 12 allievi si sono iscritti alla Cap Academy. Una bellissima giornata perché si corona chiaramente un lavoro che è stato fatto nei mesi scorsi, questa Cap Academy che oggettivamente è stato un progetto direi quasi unico in Italia per formare questi ragazzi nell'attività, in questo caso di operatori di esercizio, quindi cosiddetti autisti, finalmente entrano in azienda.